Cari amici della Pallavolo, qualche riflessione in ordine sparso iniziando dalla Superlega che ha mandato in archivio la stessa giornata e applaude il primato solitario meritato di Perugia. Sei vittorie in altrettanto partite per la squadra di Lorenzo Bernardi, o meglio dovremmo dire 8 su 8 se andiamo a contemplare anche le due ottenute nella Supercoppa a Civitanova Marche. 3 a 1 nell'ultimo match su Sora, dunque primo set concesso agli avversari, nulla però servono alla squadra di Mario Barbiero che rimane in fondo e la classifica ancora al palo. Sapevamo che sarebbe stata una stagione molto complicata per la Biosì e così è. Molto bene Civitanova Marche, è andata a vincere 3 a 1 al Palapanini, un Palapanini gremito di pubblico e di entusiasmo. L'Azimut ha vinto il primo set e poi cavalcata per la squadra di Medea, trascinata da Quanto Regno e da Sander. Il martello statunitense non solo ha messo segno a 18 punti ma sta garantendo solidità, stabilità alla seconda linea. Sorpresa dell'anno, senza dubbio, Ravenna. Quarta vittoria consecutiva, terza posizione in classifica, 3 a 1 su Padova. Grande gioco e scelte azzecate da parte dei dirigenti romagnoli che stanno dando un occhio al portafoglio ma stanno anche pescando giocatori molto interessanti in prospettiva presente e futura. Vimbo Valencia, terza vittoria dell'anno, prima in casa, purtroppo qui c'era poca gente, andate a vedere la Tonno Calipo perché se lo merita la società sta facendo grandi sforzi e deve essere ripagata. Neanche mille persone per assistere alla vittoria per 15 a 13 al tiebreak su Latina con un super Antonov. Male, invece, Trento. Quarta sconfitta. Ha perso in casa 3 a 1 con Verona che dunque ha un po' respirato. Il cammino è ancora lungo, soprattutto dovranno decidere se e come cambiare temporaneamente l'infortunato di Ulrich che però potrebbe recuperare prima del previsto. E poi un eterno Alessandro Fei. 23 punti, 61% in attacco, 3 a 1 decisivo il suo apporto ai fini della vettoria di Piacenza dove è tornato quest'anno su Milano che continua a essere condizionata dalle assenze di Sbertoli e di Fanuli. Per quanto riguarda invece il campionato femminile, in vetta continua a veleggiare la coppia Conegliano-Scandici. Conegliano 3 a 0 facile facile su Legnano. Ha riscattato in fretta l'amarezza di mercoledì in Supercoppa anche se parzialmente dobbiamo dirlo perché le due partite hanno una valenza un po' diversa. La Sabino del Bene invece si è imposta nettamente con estrema facilità nel derby toscano su Firenze per 3 a 0 in un battito di ciglio, insomma poco più di un'ora. C'era tanta gente al Mandela Forum, più di 3.000 spettatori, compreso il sindaco della città Gigliata. In battuta, là ad un punto solamente di ritardo dalla coppia di testa, c'è Novara che ha battuto 3 a 1 alle neopromosse Filotrano con una straordinaria Francesca Piccinini. 38 anni e non dimostrali, 801 partite in quadra di club. Una carriera veramente straordinaria per lei. Infine Casal Maggiore, male, decisamente male, indipendentemente dall'assenza di Leo Lobianco qualcosa non funziona, ha perso 3 a 1 in casa con Monza e deve riflettere molto sul suo presente e soprattutto sul suo futuro. Buona pallavolo a tutti, ciao!